Sarà presentato domani durante l'open day dei fratelli Maristi il leap d'up della scuola realizzato dal gruppo di produzione audiovisivi di Teleclub Italia. Il video sulle note della canzone Geronimo ha visto la partecipazione di tutti gli alunni e l'utilizzo delle più moderne tecnologie broadcast. Un percorso colorato e divertente che in sei minuti metterà in luce le eccellenze della struttura giuianese. Abbiamo pensato ad un modo diverso per trasmettere i nostri valori e mostrare le qualità della nostra scuola. Così abbiamo scelto di girare un video che potesse rendere protagonisti i nostri studenti. Ha spiegato il preside dell'istituto Domenico Vitiello. Alle 17 nell'aula magna della scuola non solo sarà proiettato il video ma sarà anche caricato un countdown su YouTube. Volevamo qualcosa di virale che stesse al passo con i tempi e ci raccontasse. Abbiamo pensato a questo particolare video eliminando la fase di doppiaggio per non rendere nessuno troppo protagonista. Perché per noi tutti gli alunni sono uguali. Ha chiarito Gianluca Mauriello, coordinatore del progetto. Uno strumento innovativo che anche sul piano della comunicazione porta i fratelli maristi al passo con le più importanti realtà internazionali. Abbiamo scelto Geronimo perché parla del coraggio e delle paure. Iniziamo il nostro video con un alunno che abbandona uno smartphone per vivere le emozioni della nostra comunità. Ha concluso il preside Vitiello.